E' bello ragazzi qui Xfile e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi finalmente ritornati con un nuovo vlog Devo abituarmi a non dare botte qua perchè sennò altrimenti sentite casini E si oggi siamo qui ritornati con un mega vlog dopo una vita che non esce uno E siamo più professionali ragazzi perchè abbiamo pure il microfonino a clip Che non so come si sentirà è la prima volta che lo utilizzo quindi speriamo bene Ma è possibile che io non registro pace tranquillità agli uccellini che canticchiano E poi fischiano al massimo Comincio a registrare l'apocalisse Ma che Vabbè Comunque sia ragazzi oggi siamo qui ritornati con un nuovo video vlog informativo Vlog aggiornamento nella quale vi dirò ovviamente Cosa sta succedendo in quest'ultimo periodo Perchè come avrete sicuramente notato da tre mesi a questa parte i video non escono più una volta al giorno Ma escono tipo un giorno sì e un giorno no Alcune volte mancano addirittura E tutte queste belle cose qui Ma comunque sia prima di dilungarci in chiacchiere io vi ricordo come al solito di lasciare un bel like Mi raccomando lasciate quanti like volete E soprattutto ci tengo che voi guardiate questo video dall'inizio alla fine Quindi mi raccomando ci tengo davvero tantissimo Se lo guarderete dall'inizio alla fine vi ringrazio Comunque sia cosa sta succedendo in quest'ultimo periodo Allora il tutto è cominciato sostanzialmente nel mese di marzo Perchè nel mese di marzo mentre io ero tranquillo ad editarmi video e a registrare video Mi è balenata in mente In realtà già mi balenava in mente questa idea da parecchio tempo Però poi si è fatta più insistente Ovvero quella di comprare una macchina tutta mia Da poter utilizzare per spostarmi Fare anche vlog in macchina Questo potrebbe essere uno spoiler Perchè arriveranno ovviamente E tutte queste belle cose qua Quindi sostanzialmente volevo una macchina per i fatti miei E ovviamente il vostro caro Willy Si può buttare in passo Può pensare a dire Mo' mi compro una panta usata Così vaffancala Va bene uguale Col cavolo Perchè sostanzialmente la mia idea Era quella di comprare un'auto sportiva Perchè sostanzialmente ho pensato Almeno una volta nella mia vita Voglio avere un'auto Che sia bella performante E che comunque sia mi piaccia E la mia prima idea Si è buttata su un'Audi TT Però che succede? Succede che vengo a scoprire L'esistenza del Super Bowl In realtà la conoscevo già prima Però poi l'ho approfondita E l'Audi TT Indovinate un po' Era sovresposta al Super Bowl Quindi ciò significava dire Che dopo aver speso 60.000 euro d'auto Dovevo pagare anche tot di Super Bowl Che non so a quanta monta Ma lasciamo stare E quindi abortisco completamente L'idea di prendere l'Audi TT E io già da parecchi anni Conoscevo quella marca lì Esatto proprio quella E quindi dico Beh Se cosa c'è andiamo a vedere che cosa offrono Sapevo più o meno i prezzi Le auto che c'erano eccetera eccetera In quanto comunque le Tesla Mi hanno sempre appassionato Mi sono sempre piaciute Quindi logo sul sito E vedo belle cose E dico Beh Sai che c'è Si può fare E quindi praticamente da aprile A questa parte Tutto sto casino si sta creando A causa di quella roba lì E questo sempre perché Voglio un'auto per i fatti miei Da poter utilizzare Quanto cavolo mi pare Perché per il momento Utilizzo quella di mio padre Ed è un po' un casino Cioè perché certe volte C'erva mio padre Certe volte di qua Di là E quindi non ce l'hai Sempre a disposizione Se vuoi fare una cosa Sostanzialmente Hai bisogno L'autorizzazione Proveniente da Papa Francesco In persona Ed è un po' un casino E comunque sia Inizio a mettere I primi soldini Da parte Per quest'auto Auto che ancora Non vi ho detto qual è Conoscete la marca Perché ve l'ho già detto Parecchie volte La Tesla Però non vi ho ancora Detto il modello E sapete che c'è Vi sfido Provate ad indovinare Qua sotto nei commenti Quale Tesla Comprerò Scrivete E cercate di indovinare Fatto sta che guardando Fatto sta che guardando E riguardando Mi informo sui prezzi Di qua e di là E vengo a scoprire Che ovviamente Che con i soldi di YouTube Col cavolo Che riuscirei a comprare Sta Tesla Potrei Ma praticamente Avrei 90 anni Quindi Non lo so E quindi ho pensato Ma sapete che c'è E se mi metto a lavorare Ma è peggior idea Fu scelta Dalla mia mente E adesso arriveranno Tutti quelli YouTube Non ci fa nulla Il lavoro Dove ti spacchi le schede Vedi di qua e di là Evitate Grazie E diciamo che Sono entrato Nel monto del lavoro A partire dal 2 maggio Di quest'anno Il problema Sta nel fatto Che io Sono entrato All'interno di questo lavoro Con altre promesse Remunerative Ovviamente Secondo voi Poteva andare Tutto liscio come l'olio No assolutamente E comunque Entro all'interno Del monto lavorativo Vero Come lo chiamereste Voi O molti di voi Il mio lavoro È tipo corriere Diciamo E comincio alle 8 di mattino E finisco Verso le 18 di sera Barra 19 Quindi capite bene Che sono quasi 12 ore di lavoro E io le ho detto Ok E quanto posso fare i video La sera alle 11 E quindi mi organizzo tutto Campio gli orari Perché alle 11 Comincio a registrare Un giorno registro Un giorno edito Un giorno registro Un giorno edito Quindi un video al giorno E fin qui tutto ok Io ho detto Wow Magnifico Perché comunque Dovevo essere pagato Abbastanza bene La sera mi facevo i video A parte aver eliminato Completamente La mia vita sociale Da tutto Perché Non avevo più tempo Per vivere sostanzialmente Perché facevo Ma alzavo Lavoro Finivo da lavorare Registravo E andavo a coricare Quindi non è che Ci avessi chissà quale vita Ecco Però sì E arriva il primo di giugno Quindi primo pagamento Ragazzi Ho detto Ah Ora arrivano i soldini Li vado subito A mettere Nell'auto Mi arriva La ricevuta Bancaria Dove mi erano stati Addebitati Una roba come 410 euro E io lì per lì Ho detto Come 410 euro C'è qualche errore Impossibile Perché comunque Stiamo parlando Della metà Poi parlando Di qua e di là Ho scoperto Che in realtà La mia paga giornaliera È di 20 euro Quindi sì Sostanzialmente Io sto fuori casa 12 ore Al giorno Non ho più Una vita sociale Per 20 euro Al giorno Lì per lì Un po' Mi sono girati Le cose Che non ci possono dire Su youtube Altrimenti Mi mettono Il bollino rosso Già che guadagniamo poco Mi mettono pure Il bollino rosso Siamo a posto E ho rifatto di nuovo Mente locale Perché ho detto Ok Sono soldi Per ogni Non ci siamo Perché comunque Non riuscirei ugualmente A comprare quest'auto A meno che non lavoro Per tipo Due anni Per potermi pagare Solamente l'anticipo E non perché sia obbligatorio Dare un anticipo alto Ma lo voglio dare alto Per alleggerirmi Le rate Quindi avere delle rate Più flessibili E più facili da gestire Comunque dal primo pagamento Ad oggi Sono successe altre cose Perché ovviamente Capendo che Avrei dovuto perdere Ancora altro tempo E già la mia vita sociale Si è distrutta Nell'arco di questi mesi Ho pensato Se io devo stare Due anni qua Per poter comprare la macchina Che poi non so Quanto posso utilizzare Effettivamente Perché sto Dalla mattina Alla sera fuori A lavorare A lavorare Poi arrivo a casa E devo registrare A qualcosa Devo dire addio Se mi compro la macchina Che me ne faccio La tengo in garage E quindi Faccio un attimino Mente locale E da quel momento in poi Io sto impazzento Letteralmente E voi vi chiederete Ma Willy Perché sta impazzento Per un semplice motivo Perché ovviamente Sento che non mi quadravano I conti Adesso sto Pensando Ad aprire Se così vogliamo dire Perché è tipo Un'azientina Privata Non so come Potervela spiegare Ma ve la spiegherò In futuro E in buona sostanza Ciò che sto cercando Di fare Dal mese d'aprile A questa parte Avviare un'attività Per conto mio Un'attività Abbastanza Remunerativa Guardando i conti Che mi son fatto E che quindi Volento Mi permettono Tranquillamente Di poter acquistare Non una di quelle Ma tipo Non lo so Però non parliamo troppo Perché ancora siamo Sulle basi Ci sto lavorando Ma ancora siamo Sulle basi Quindi non parliamo Grazie Perché conoscendo Il monto Che ce l'ha con me Evidentemente Qualcosa di brutto Accadrà E quindi sì Sostanzialmente Sto impazzento Per creare Questo mio nuovo business Perché Oltre a Lavorare Dalla mattina Alla sera Quindi 11-12 ore al giorno Registrare Ed editare i video Lavorare anche Con gli account Di gt online Che comunque Ultimamente Siete in tantissimi A chiedermi Aggiunta soldi Su gt online In tutto ciò Devo anche cercare Di organizzarmi Tutta sta roba Perché comunque Avviare questa attività Richiede tempo Richiede studio Molto studio Richiede soldi E quindi ultimamente La mia vita Si è tramutata In Mi alzo la mattina Registro la sera O edito Andandomi a coricare A luna di notte E nel poco tempo Che mi rimane In quel lasso di tempo Che mi rimane È un Chiamare a destra Chiamare a sinistra Guardare per terreni Quanto costano Di qua e di là Tasse Chi mi deve fare Il prestito Eccetera eccetera Perché sta attività Purtroppo Richiede Un bel baggettino Che io non ho E quindi Necessito di un prestito O un mutuo addirittura Credo sia più un mutuo Perché superando Una certa cifra È un mutuo Quindi sostanzialmente Ciò che sto facendo io È mettermi nei guai Perché sì Ok va bene tutto Teoricamente Se conto i miei calcoli Se va tutto Se conto i miei piani Dovrei guadagnare Molti soldi Che ciò ovviamente Significano anche I nuovi video sul canale Perché gran parte Dei soldi Li butterò anche sul canale Avrò una vita migliore In quanto Avrò tempo più libero E forse Ritornerà La mia vita sociale E tutto questo Però tengo anche In conto Il lato negativo Nella quale Magari va tutto male E in quel caso Diciamo che So cazzi mia Perché Mi voglio vedere A dover pagare Una roba come Chissà quanti soldi Senza un lavoro Quindi ragazzi Te incrociate Speriamo bene Per una volta In questa vita E quindi niente Sostanzialmente In breve Riassuntino Veloce veloce Tutto sto casino Di spostamento Dei video Di assenza Da parte mia Qui su youtube Che vite sociali Che crollano Tutto per colpa sua Quindi ragazzi Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Non so cosa Ne è uscito fuori Non so quanto durerà Non so assolutissimamente Nulla Ma perché sono sovraesposto Io odio sta foto Ecco Compreremo anche Una nuova fotocamera Va bene Non so perché Arrivata una certa Si piglia Che mi sovraespone E divento Un omino Delle nevi Perché divento Tutto bianco Non lo so O giallo Addirittura Non lo so Ma io è sempre Un simpson Comunque sia Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Questo è quanto Magari Vi aggiornerò In futuro Con nuovi vlog O robe di questo tipo Insomma Seguitemi tra l'altro Anche su instagram Trovate il link Del mio profilo instagram Qua sotto Nella descrizione Perché seguirmi su instagram Comunque sia molto importante Vi terrò aggiornati Molto ma molto più Spesso Sulla situazione Quindi niente Se non l'ho già detto Io spero che Questo video Dove vi racconto Più o meno Ciò che sta succedendo In quest'ultimo periodo Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Per supportarmi Moralmente E fisicamente Provate ad indovinare Qua sotto Nei commenti Quale auto Comprerò E quindi niente Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Seguitemi su instagram Link qua sotto Nella descrizione E noi ci rivediamo Con un prossimo video Bella regia Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti